Io ho parlato con quelli che ritengo importanti per me, tra i quali il principale è il capitano e ho ricevuto l'assenso e la piena collaborazione. È chiaro che un giocatore come Maresca possa aver rilassiato quelle dichiarazioni, ho parlato adesso col suo pastorello e prenderemo dei provvedimenti, perché ha scritto delle stronzate. Iachini non mi ha procurato 60 milioni, ho comprato io Di Bala prima di Iachini, Vasquez prima di Iachini, sono giocatori che ho comprato io con i soldi della società. Iachini aveva una Serie B con un budget stipendi di 40 milioni e il Carpi è andato in Serie A con un budget stipendi di 6 milioni.